Prima di iniziare il video volevo ricordarvi il link di G2A in descrizione dove potete acquistare giochi a prezzi super scontati E oggi nell'episodio numero 30 non poteva che non esserci un ospite molto speciale Tanti bei pollicioni in su per questo video Condividete Buona visione Salve Equipe per ritornare di un nuovo program tv Tanji Sanji 2 dai Come non festeggiare la possibilità di avere un ospite speciale sul canale Quindi che si fa oggi Si va a costruire la casa di tuo fratello Anzie Anna Cosa facciamo Allora oggi prendiamo dei funghi E andiamo Andiamo a coltivare Fai una bella frittata di funghi No andiamo a fare come Enrico Pasquale Solo che noi coltiviamo i funghi non coltiviamo la vigna Fai che cosa? Eh la casa nostra Eccolo Eccolo No Mi distruggi la montagna mi serve dopo Allora oggi La casa dei buffi Possiamo la casa dei buffi dove? Su Su La Su minecraft Il mio mondo Il mondo di minecraft Oddio Sottana tu ce l'hai io ai suoni Ti tiro con la pala Picconate A patate So giocare a minecraft Sì si vede Scoppia Scoppia Creeper Scoppia Non mi va a distrarre Lo zombie Vai costruita casa di champignone La spada Ci ha affilatezza di due contro il colpo uno Ma metti modalità pacifica Ma perché pacifica? Dopo non c'è In mezzo l'acqua vicino alla papera Fai mezzo l'acqua in radio ti ammazza Può venire Sì ma Si arrende vedi Quindi mo tu fai una cosa Piazza il centro con la goblest Adesso Ricopri tutto Fai una pianta Una petana di due Nuo ricopri tutto intorno Più lunga deve essere Eh vabbè Faccio Faccio A tre Una terza Ci vuole Chiudi Perfetto Tu devi fare così Di creare una zona di buio Piazzate il fungo No Toglie Uno Un e due Toglio Fa spara un fungo Pamma tutto E dovrebbe nasce Che era col buio Sì Perché non spawn Deve spawnare per forza Per forza Però aspetta No aspetta Devo far così Mi sa Forse io Meglio che lo faccio Crescere Buio Però stai sopra Eh ci stai tu Eh vabbè Dai funghe Dai Perché non ci spawnare Dai Eia 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 E dai Adesso è notte piena Perché Era ora Un anno e mezzo Oh Vogliamo vedere come è uscito Di adesso andiamo a vedere Da poveri No Perché Là ci metti le finestre Allora Ah 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 Ti immagino L'hanno messo sopra Qua c'è Finestrella Lì Ok Perfetto Il vetro Il vetro dopo lo fai Allora questa è una casetta tua Allora per per iniziare Che bella casa Che bella casa Questi con il tocco di velluto si può prendere Ma che stai dito Subito Allora Le vedi Troppando il piccone Troppando il piccone Sta soprattutto All'albero No Troppante il piccone Troppante il piccone Troppante il piccone No 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 Vedi però Vedi se ti puoi buttare Perché no È troppo 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 in là Troppo in là Dai troppo in là dai che è stato che ce l'ho di volo di dato che ci sia tocco di velluto puoi adesso andare puoi andare a prendere anche altri funghi che stanno nella foresta lo fa più grande capito l'ascitole di campo che nascono anche funghi adesso vai alla foresta vicino qua no no guarda i zombie come arrivano oh mio dio sei circondato oddio oddio ma che fanno i figli dai davide dai a destra a destra vai tutto dritto così vai 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 il coniglio dai con io dopo lo prezzo eccoli vai vai quelli rossi non si vede non fai un mega gigantone un gigantone c iscriviti casa di davide con un cartello posta e scrivo dai di poveri mamma funga mi fai no ma gli altri gli altri nani ho sfasciato la cat bugatissime la foresta di funghi naturali che c'ho qua una persona non c'è mai stato non ha mai toccato la serie a parte chiara ma solo guardata mai nessuna persona ha fatto il giro del mondo qui capito no mi rovini il prato cascata e lascia perdono la ricordata ci ho messo tantissimo famicino con di velluto diamo ai piazza sti cosi su qua 12 ma no così a vero torta una casetta non è che è un ripostiglio che deve essere una reggita vero torta il campo no perché tolto il campo guarda che bello che bello di lasciare la base il centro lo stelo guarda che brutto c'è la varicella da da riprendi quel piccone poi dalla devi sempre rispettato il po se lo vuoi fai tro se dai abbiamo finito a casa posto andiamo in c'è una staccionata e ti fermi la perché la prossima episodio la casetta di davidico ha detto a maiuscola per fuori non sei un animale spero che il video vi sia piaciuto come al solito lasciate un mi piace un commento una condivisione fai sapere a tutti la serie di minecraft oggi è stato un ospite speciale non perdere il prossimo appuntamento clash royale insieme al mio fratello 50mila like e 900 mila iscritti e dateci anche 50 euro polliciate condividete il canale e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazza trovate il link in descrizione della pagina facebook instagram il sito internet di gamechark vi lascio tutto in descrizione passate a votare anche lì ciao l'equip ciao 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 i